Dalle prime luci dell'albe i carabinieri della Compagnia di Napoli Centro hanno eseguito una misura cautelare personale emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli. Gli arrestati sono gravemente indiziati del reato di assotazione per delinquere finalizzata alle truffe in danno di anziani. L'attività di indagine dei carabinieri della Napoli Centro coordinati dalla Procura partenopea ha permesso di accertare l'esistenza di un gruppo criminale dedito alla consumazione di truffe e danni di anziani con la tecnica del finto nipote. I militari dell'arma e l'autorità giudiziaria hanno potuto documentare la realizzazione di 25 episodi di truffa nei territori delle province di Napoli, Caserta, Salerno e Latina da parte degli indagati che avrebbero ricoperto specifici ruoli e compiti all'interno dell'associazione. Durante le indagini preliminari è stata individuata una base logistica di Bitanca Centrale Telefonica nel Centro Storico di Napoli da dove gli indagati contattavano le anziane vittime fornendo poi tutte le indicazioni ai finti corrieri per la consumazione del reato. Nel corso dell'attività di indagine sono state tratte in arresto altre 5 persone colte in fragranza di reato e sequestrati 11.000 euro in contanti e preziosi vari provento delle truffe restituite alle anziane vittime. Il provvedimento eseguito è una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari a verso cui sono ammessi mezzi di impugnazione e i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini e quindi presunte innocenti fino a sentenza definitiva.